La degustazione all'interno del centro commerciale Fano Center ha inaugurato a ottobre del 2017 e non è solo un luogo dove fermarsi per una veloce pausa pranzo di lavoro o per fare gli acquisti. La degustazione è con la sua innovativa proposta un vero polo del food di qualità, un concentrato di eccellenze territoriali, diversità di proposte che soddisfano ogni esigenza della clientela con una maniacale attenzione all'alta qualità delle materie prime. La degustazione di Fano nasce dall'intuizione di chi desiderava trovare anche all'interno di un centro commerciale una proposta ristorativa di alta fascia. Il cibo come magnete, il cibo come cultura all'interno di un centro commerciale non si era mai visto. Per questa ragione abbiamo studiato questo layout che riprende un po' la stazione ferroviaria anni 20 per condurre i nostri clienti in un emozionale viaggio culinario attraverso appunto il sapore e il gusto. La degustazione non è solo colazione, non è solo pranzo, non è cena o aperitivi. Degustazione è cibo a tutte le ore per parlare e fare cultura attraverso il cibo. La degustazione offre la possibilità a famiglie ed amici di poter passare una serata in compagnia senza però che nessuno sacrifichi i propri desideri alimentari attraverso le 11 proposte e stando anche tutti quanti insieme. Ora si vuole creare anche il giusto contenitore di eventi per far sì che la sera sia il giusto momento per fare un viaggio all'interno dei sapori e delle eccellenze del territorio. Questo a partire da giovedì 9 maggio con i produttori del Bianchello del Metauro. Partirà la rassegna Bianchello d'autore da maggio, abbiamo tre tappe, poi ci sarà anche il corso di birra in collaborazione con Renton e Slow Food e poi andremo a toccare anche altri prodotti di qualità del territorio così come il tartufo, l'olio di cartoceto, la casciotta d'urbino e tante altre tappe legate al nostro territorio.